Oggi andiamo in gita. Dove che andiamo? In gita proprio là. Ok, dove? Siamo a Verona, città regnale Amaraghi. Si chiama tutta madre? Siamo arrivati a Verona. Dove siamo? Siamo a Verona. E come mai? Mano. Dai, perché? Facciamo due anni di fidanzamento. Quando? Domani. Che è il? 15 gennaio. Hai passato al test. Ho catturato proprio adesso. Oh, shiny. Contento? Si, molto. Verona mi ha portato a fortuna. Eh, Verona, l'anniversario, un giocoliere. Siamo che il marciapiede è singolo, dobbiamo camminare così. Comunque, a pranzo, siamo andati a un ristorante vicino al bed and breakfast. Adesso, dov'è che andiamo, Leo? Dio, dov'è che andiamo? Stiamo andando al San Ristorante. Che è il ristorante? Di sole. Di sole. Oh, ristorante cinese barra giapponese. Cinessa. Cinessa. Si è baccato di nuovo, confio di nuovo giorno. Niente. A dopo. Essendo che ci trattiamo molto bene, siamo venuti nel ristorante. Si chiama San Ristorante a Verona, se volete venirci, è molto carino. Che è un fusion tipo giapponese, cinese. E dobbiamo ancora provare, dobbiamo ancora prendere qualcosa, però finora è molto carino. Prendo questa musichetta così. Buongiorno. Guardate qua quanta roba. Un sacco di yoga. Buongiorno. Dove stiamo andando? All'acquardance. Dopo la mega colazione di prima, stiamo andando all'acquardance a rilassarci un pochino. Questa è la mappa, e noi siamo partiti dal puntino in basso a destra, e dobbiamo arrivare dalla punta rossa. A Ospedaletto. A Ospedaletto. All'acquardance. Acqua con la Q e basta. Vedi? Acquardance. Sì. Fa caldissimo. Saluta? Sì. Oh Vai! Abbiamo gli orologi swatch, quelli che costano 300.000 euro E cosa sono questi pass per andare ovunque? I pass da 100 euro che se li perdi c'è una penale, uuuuh c'è una penale da 100 euro Ma le scale, oh mio dio sono già innamorata delle scale E io molto fashion con le Timberland Ma gli spugliatoi misti? WTF Si perchè guardate ci sono delle mini cattive Si si no immagina, come in piscina Ah ti dice anche quale Che figata Vabbè sembra tipo una scuola Va dopo Allora, adesso ti farò un regalo Prendi il tuo telefono Metti il wifi Vai Ti hai acceso? Quali reti ci sono? La prima? Adesso vuoi fare? Si, prima Si è buone Vedi? Buon anniversario Si è buone Arrivo Se già puoi starci in piedi Cioè se vai all'altra linea è finita dopo Oddio Allora E poi Un'altra linea è finita Questa è la stessa Un'altra linea è finita Grazie a tutti. 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 Giulia ci dimostra come si aprono gli armadietti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso si chiude. Adesso chiude l'armadietta. L'armadietta. E ecco qua l'armadietta è chiusa. Allora, arriviamo a uno sbagliato scale. Allora, stiamo andando nel ristorante riservato alle persone della piscina. Quell'altro era per le versioni vestite, quelle povere. E niente. E niente, siamo arrivati al ristorante. Che fighe, anche con le luci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. E niente, adesso mangeremo quello che c'è. Allora, siamo a pranzo, abbiamo preso patate, maiale in salsa Thai, non mi sembra che appare è, riso bianco, cotoletta, patatine fritte, panette ragù, due pani, un panino, una Sprite e un'acqua. E niente, ciao ciao.